un caro saluto a tutti rieccoci per il secondo appuntamento di oggi di questo sabato di attesa perché ovviamente i tifosi del mia non vedono l'ora che la squadra ritorni in campo giustamente manca ancora una settimana anzi qualcosa in più perché si gioca di lunedì però insomma è l'occasione giusta per parlare anche di calciomercato vi invito anche ad iscrivervi ad attivare la campanella in modo da avere le notifiche dei video e quindi di essere sempre aggiornati su tutti gli argomenti perché oggi tratteremo di un altro caso di mercato al Milan prima però di fare questo video stavo rivedendo l'assist e il gol di Theo Hernandez e Giroud con la maglia della Francia un assist al bacio dell'esterno sinistro francese colpo di testa di Giroud ecco è bello vedere anche come i giocatori del Milan facciano bene anche con le proprie nazionali ed è bello per il Milan avere elementi di caratura internazionale nella propria rosa questi sono i giocatori su cui il Milan vuole puntare anche sul futuro tant'è vero che si è parlato molto spesso in queste ultime ore di Origi che è un altro nazionale belga è un giocatore del Liverpool abituato a vincere trofei abituato a giocare ad alti livelli sono questi giocatori che ti possono far fare il salto di qualità ed aumentare lo spessore internazionale della rosa chiusa parentesi su Theo Giroud ma anche su Origi perché comunque è sempre argomento di discussione parliamo di un giocatore che in questo momento è in prestito biennale con diritto di riscatto e contro riscatto lo avete capito parliamo di Brian Diaz che è in prestito dal Real Madrid operazione conclusa praticamente in estate le due squadre si sono accordate per un prestito oneroso di un milione e mezzo per la prima stagione prestito oneroso per la seconda stagione quindi in totale se Brahim dovesse rimanere per due anni il Milan pagherebbe tre milioni per questi due anni di prestito poi il diritto di riscatto a favore del Milan è a 22 milioni il contro riscatto per il Real Madrid è a 27 milioni di euro questa questo è l'accordo che hanno trovato i due club in estate ricordate la trattativa era stata molto lunga perché c'era da studiare nei minimi dettagli cosa abbiamo scoperto però su Brahim che nonostante il giocatore sia in prestito biennale e quindi qualcuno potrebbe pensare vabbè Brahim il Milan se lo tiene per due anni e invece no abbiamo scoperto che nonostante il prestito sia biennale il Milan il giocatore e il Real si incontreranno a fine campionato per discutere del futuro di Brahim perché anche il giocatore vuole capire cosa succederà la prossima stagione se il Milan ha ancora intenzione di puntare su di lui se invece andrà su altri obiettivi e va a andrà poi a rinforzare un reparto che comunque necessita di qualche elemento in più però a quel punto Brahim dice io però sono rimasto al Milan con la maglia numero 10 maglia pesantissima per giocare al Milan non per fare panchina quindi c'è da capire un po' di cose ci saranno ci sarà quest'incontro a fine stagione tra il Milan il Real e l'entourage del giocatore di Brahim una chiacchierata senza ovviamente con toni molto distesi con toni ovviamente molto eleganti come solito fare il Milan con Paolo Maldini che d'altronde ha grandi rapporti con il Real Madrid lo stesso giocatore per capire cosa fare del futuro cosa fare la prossima annata si potrebbe continuare sulla stessa strada quindi confermare l'accordo che il Milan aveva già trovato con Real Madrid la scorsa stagione quindi il prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto si potrebbe anche interrompere questo questo tipo di rapporto tutto può succedere quindi ci hanno detto di stare attenti sulla pista Brahim perché in estate ci sarà una discussione un summit un incontro in cui verrà comunque verranno chiariti alcuni aspetti e si prenderà magari una decisione sul futuro ricordiamo che Brahim classe 99 a 22 anni molto giovane ha assegnato in questa stagione tre gol e ha fornito tre assist in 25 presenze era partito in maniera fortissima e Brahim era partito a razzo praticamente giocando benissimo nelle prime nove partite di campionato secondo me era stato il miglior inizio di Brahim in carriera perché lui ha giocato con il Real con il City insomma sempre stato un po in prestito anche con il Milan ma la sua miglior il suo miglior inizio è stato quest'anno poi cos'è successo è arrivato il Covid pesante lo ha debilitato è stato un Covid molto forte molti lo hanno definito Long Covid cioè gli effetti di questo Covid sono stati su Brahim per lungo tempo e quindi non è stato più il vero giocatore che abbiamo visto a inizio stagione poi cos'è successo è successo che subentrata un po di sfiducia la maglia numero 10 pesa il campionato del Milan è diventato sempre più un campionato come dire in cui le pressioni aumentavano perché giustamente il Milan è primo in classifica poi Pioli gli ha preferito che sì questa è stata una mossa che evidentemente probabilmente non ha fatto neanche tanto piacere al giocatore perché si sentiva titolare del Milan poi nella seconda parte di annata di campionato ha visto che si scavalcarlo nelle gerarchie d'altronde che sia è anche un giocatore adattato a quel ruolo lì quindi non parliamo di un giocatore con le caratteristiche per fare il trequartista ed evidentemente Brahim vuole anche capire cosa succederà in futuro in futuro l'anno prossimo se il Milan dovesse prendere un altro trequartista così come sembra perché lo stesso Adli ad esempio potrebbe giocare trequartista se il Milan dovesse prendere Renato Sanchez anche lui potrebbe fare potrebbe essere inserito nel ruolo di trequartista e quindi Brahim per la prossima annata vuole vederci chiaro anche il Milan perché poi comunque al termine dei due anni di prestito può o meglio esercitare questo questo riscatto e quindi sostanzialmente ci sarà questo incontro dove si parlerà naturalmente del futuro di Brian Diaz. In questo video vorrei parlare però anche di un altro giocatore fondamentale per il Milan ovvero Tomori. Tomori che ha rilasciato una bella intervista al Guardian elogiando Paolo Maldini. Sapete che Maldini per i difensori del Milan è un idolo. Grazie a Maldini il Milan a Teo Hernandez ci parla tutti i giorni a Milanello cioè immaginate Teo che si allena con uno dei suoi idoli lì a pochi passi tutti i giorni e quindi è anche uno stimolo in più a far bene e la stessa cosa anche per Tomori. Tomori lo dice in questa bella intervista al Guardian dice Paolo Maldini è il miglior difensore di sempre quindi già avere il miglior difensore di sempre in squadra come dirigente è sempre uno stimolo a fare meglio ed è anche bello per un giocatore averlo lì a due passi. L'altro giorno stava parlando della velocità della palla che passa dietro e di come lavorare sulla nostra posizione del corpo quindi da anche consigli Paolo Maldini eccolo qua vedete Paolo anche qui nell'altro nell'altro libro è ovunque Paolo Maldini e anche da anche consigli ai difensori ed è un valore aggiunto per Stefano Pioli per il Milan e per la crescita di questa squadra. Come difensore vuoi essere sempre sicuro di impressionarlo dice Tomori cioè lui si impegna anche per impressionare Paolo Maldini che ha riposto tanta fiducia nei difensori del Milan in Tomori che è un fenomeno in Tevernandez che è uno dei terzini più forti d'Europa e anche in Calulu perché anche Calulu molto spesso parla di Maldini e Maldini dà consigli sulla postura su come migliorare sulla tattica sulle marcature. Calulu che poteva essere anche più terzino inizialmente ma poi dopo si sta spostando con ottimi risultati anche al centro del campo quindi ogni tanto mi piace sottolineare l'importanza di avere una figura come Paolo Maldini in dirigenza al Milan che può dare anche consigli su come crescere ai vari difensori in rosa al Milan. Noi ci vediamo domani come sempre vi invito anche ad iscrivervi al canale perché davvero è importante per la crescita del canale. Settimana prossima come ho già ribadito in alcuni video vorrei fare una live insieme a tutti voi così parliamo un'oretta insieme magari anche qualcosa in più su tutti gli argomenti del Milan in settimana tra l'altro ripartirà in maniera più intensa la preparazione per Milan Bologna match fondamentale di queste ultime otto tappe del Milan da qui alla fine della stagione. A presto!